Allora, dunque questo è un datasheet di un transistore bipolare, un motorola un transistore si chiama 2N2222, è un transistore storico motorola diciamo molto di base e frequentemente adoperato per uso in, direi, amplificatori audio Allora, come è fatto un datasheet? Vedete, questo è un documento di 6 pagine c'è scritto transistor per amplificatore, NPN e ci sono una serie di tabelle, vediamo un po', ecco, questo è il case, il contenitore vedete, case 2904, la sigla del contenitore con i tre piedini, 1, 2 e 3 che sono collettore base e emettitore come la schema va bene, tenete presente più o meno questo, quanto sarà grande non c'è la quotazione, forse di solito nell'ultima pagina c'è vedete, qui ci sono le dimensioni è 4-5 mm, quindi immaginate più o meno un cubetto l'ingombra è quello di un cubetto di 5 mm di lato più i piedini i piedini in realtà poi si attaccano su una scheda, si tagliano allora, vediamo un po' le cose che vengono indicate la prima tabella indica i maximum ratings cioè i valori massimi di tensione, corrente, potenza e temperatura a cui può funzionare il dispositivo e sono indicati qua VCE0, VCB0 cosa sono VCE0? VCE0 è la tensione massima tra emettitore e collettore con la base in circuito aperto prima della rottura il breakdown della giunzione tra base e emettitore in 40 volt collector base voltage VCE0 è la tensione massima tra collettore e base con l'emettitore aperto emettitore flottante è un po' più alta perché in generale con l'emettitore flottante si ritarda l'innesco della moltiplicazione a valanga poi, che cos'altro c'è? un po' di altri valori io mi concentro solo su alcune cose la corrente di collettore massima in continuo è 600 mA in generale sopra una certa corrente massima si ha un danneggiamento dei contatti quindi questo viene indicato e poi c'è la potenza massima la potenza massima perché è importante? perché è legata al riscaldamento del dispositivo e quindi alla massima temperatura di funzionamento quindi vedete, in questo caso mi dice 625 millivolt a 25 gradi ok? non guardiamo tutti i dati però mi interessa far vedere queste cose di solito c'è un vincolo sulla tensione massima sulla corrente massima sulla potenza massima tenete presente che la potenza siccome la corrente di base è molto piccola è praticamente il prodotto della corrente di collettore per la tensione tra collettore e emettitore quindi il prodotto di questa VCE per questa IC il prodotto della VCE per l'IC quindi abbiamo in pratica un vincolo sulla tensione massima sulla corrente massima e sul prodotto ok? va bene poi ci sono altre quantità ecco questa è un'altra cosa interessante è l'intervallo di temperatura per cui è come dire garantito il funzionamento del transistore questo è un intervallo per applicazioni civili classico da meno 55 gradi a 150 sono applicazioni civili non particolarmente stringenti in generale per esempio transistori per applicazioni in campo automobilistico o trazione motori hanno intervalli di temperatura ancora più ampi perché tipicamente possono lavorare in ambienti in cui le temperature che si raggiungono sono molto più elevate va bene e poi cominciano a esserci un po' di caratteristiche elettriche queste sono quelle di prima ripetute i valori di tensione di breakdown vedete poi ci sono ecco questi li abbiamo già nominati facendo questi qua i e b0 e i c e 0 sono le e l'abbiamo nominato e l'abbiamo chiamato in modo diverso no però questa i e b0 l'abbiamo chiamata i e 0 è la corrente di emettitore di tra base emettitore quando il collettore è aperto noi l'abbiamo chiamata i e 0 e questa i c e 0 è quella che noi abbiamo chiamato i c 0 la corrente tra base e collettore con l'emettitore aperto quindi queste quantità le abbiamo già viste con un nome diverso ecco qui tenete presente che i nomi non sono standard e quindi uno deve riconoscere a che cosa ci si sta riferendo qui si capisce perché qui si vede che no l'hai c ho sbagliato infatti vedete parlando ho sbagliato la i c 0 e questa i c b 0 vedete perché viene ottenuta con i e nullo quindi questa qui è la i c 0 non ho una penna per farlo appunto no qui non me la da no e questa qui è la i e 0 o poi ci sono i valori dei parametri di grande segnale e di piccolo segnale questi guardate perché questi li abbiamo già visti insieme allora questa qua è la vc sat questa l'abbiamo chiamata esattamente in questo modo cioè la tensione che abbiamo tra collettore e emettitore quando il transistore è in saturazione vi ricordate io avevo detto circa 0,2 in realtà non è una cosa costante vedete qua viene data per due valori di corrente di collettore differente 150 mA e 500 mA e viene a 150 mA che è un valore un po' più plausibile 500 mA è vicino al massimo della corrente che può andare nel transistore e 0,3 quindi tra 0,2 e 0,3 insomma c'è poca differenza è lo stesso numero in pratica ok questo qua invece è la tensione tra base e emettitore in saturazione vedete noi avevamo detto uno 0,8 circa ecco qua vedete vi è dato un valore su tre colonne il minimo il massimo quindi per esempio qua mi dice guarda con una saturazione 150 mA il valore minimo è 0,6 il valore massimo è 1,2 perché come vi ho detto un sacco di volte c'è un sacco di dispersione nei valori dei parametri io vi ho dato circa 0,8 poi nel caso particolare bisogna vedere qui che cosa si intende d'accordo? notate quindi cerchiamo quello che sto cercando di fare adesso è di rivedere su datasheet le quantità che abbiamo già visto insieme allora questa qui è il DC current gain cioè guadagno di corrente in continua noi questo l'abbiamo chiamato beta F qui lo chiama HF grande è la stessa cosa allora anche qui vedete il dato non è mai proprio completo c'è una forte dispersione guardate qua innanzitutto dipende dalla corrente qui vi è andato per diversi valori di corrente da 0,1 fino a 500 allora voi dovreste notare e poi anche questo qui nel mezzo è una temperatura diversa molto bassa per far vedere la differenza quindi levate un attimo di mezzo questa temperatura molto bassa vedete a parità di VCE 10 volt all'aumentare della corrente HFE aumenta 35 50 75 100 poi quando vada a 500 cala ecco il discorso che vi facevo che vi facevo anche ieri riferito all'FT c'è un aumento e poi un calo nel guadagno anche qui c'è una forte dispersione guardate solo per un valore di corrente vi è andato il valore minimo e il valore massimo di HFE vedete per questo valore di corrente che è 150 mA mi viene dato il minimo e il massimo e c'è una bella differenza ok quindi questo ma sta arrivando qui vero ma sono sono debole non capisco ma è qui c'è la situazione dell'alto lo visto ah ok ho capito allora poi ci sono in basso le caratteristiche di piccolo segnale ecco small signal characteristics sono i parametri di piccolo segnale e ci sono i valori che abbiamo visto insieme guardate questi qui sono i parametri H HIE HRE HFE HUE come? allontanatevi allontanatevi sono pompieri ci sono esercitazioni periodiche anche potrebbe anche essere quello e le esercitazioni vanno fatte con le persone quindi non quando è vuoto per cui ci sta anche che sia una prova di evacuazione eh devono far uscire tutti ancora non sono mica usciti tutti la prova di evacuazione consiste nel far uscire tutti dall'edificio e quindi insomma Polo B ce ne vuole a svuotarlo anche che poi le persone stazionano lì davanti e quindi non fanno uscire quelli da dentro la prova di evacuazione fatta bene è anche anche difficile che poi bisogna fare la prova di far scendere uno in carrozzina dal punto più lontano e quanto ci vuole a farlo scendere qui è un problema c'è la 6 c'è la 6 infatti sì sì c'è quella infatti con quello no la 6 di solito c'è qualcuno che fa la parte di e vi è importato giù no la 6 è bella in realtà nel senso che effettivamente non è difficile da maneggiare e si scende cioè si scende a velocità scendere va bene la forza è gravità no si scende a velocità controllata no no non è difficile da 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 mandare sì ma comunque periodicamente diciamo è previsto che si faccia anche perché poi quando succede qualcosa bisogna che ci si si sappia che si riesce a evacuare vabbè allora stavo dicendo questi sono parametri di piccolo segnale ecco anche qua vedete questi parametri dipendono un sacco dal punto di riposo però poi nel datasheet per forza le cose non vengono dati per tutti i punti di riposo possibili vedete qua HIE che se vi ricordate sappiamo dipende da IC vi è andato per due valori e basta vi è andato per 1 mA e per 10 mA e poi chiaramente se uno si trova ad avere un punto di riposo intermedio tra questi due valori deve decidere un po' che cosa fare non vi è andato per ogni punto di riposo guardate qui tra l'altro poiché dispersione c'è a 1 mA il minimo è 2 kg il massimo è 8 kg a 10 mA il minimo è 0,25 e il massimo nel 25 ripeto questi due valori che cosa sono? sono due valori tra cui trovo i valori di HIE a quella corrente di un lotto di componenti che posso comprare se compro un mazzo di un pacco di 1000 componenti troverò che a 1 mA l'HIE va da 2 a 8 kg chiaramente il progetto deve essere unico faccio in produzione è il circuito che deve essere progettato in modo tale che diciamo quando anche HIE varie in questo intervallo le prestazioni dell'amplificatore siano più o meno costanti siano più o meno le stesse non sarà esattamente possibile far modo che siano esattamente le stesse ma insomma la variazione delle prestazioni deve essere come dire accettabile per il cliente ok questo è un diciamo un aspetto naturale e dei circuiti elettronici pensate che questo giusto per aprire una parentesi non si riesce a recuperare completamente non so se fino a poco tempo fa ma anche ora avete presente quando voi comprate un microprocessore oppure vedete dei calcolatori che vengono venduti con per esempio un microprocessore core i5 no intel e poi la frequenza può andare da 2 gigahertz 2.2 2.4 2.6 2.8 gigahertz d'accordo e sono prezzati differentemente quei processori non sono diversi sono esattamente gli stessi sono fatti nello stesso modo vengono fatti tutti nello stesso modo poi a posteriori si verifica a che frequenza vanno e si smazzano in cesti diversi e si prezzano diversamente d'accordo quindi perché questo perché comunque è vero che il processore che c'è una grossa dispersione dei parametri i circuiti sono realizzati in modo tale che i processori funzionino lo stesso sebbene ci sia questa forte dispersione dei parametri però non funziona esattamente nello stesso modo ci sono quelli che vengono meglio e quelli che vengono peggio e quindi poi vengono venduti come dire con un con un prezzo differente però cosa abbastanza lampante quando si compra un processore di fatto la frequenza di funzionamento viene decisa a posteriori si sa che andrà in un certo intervallo il valore esatto viene determinato dopo provandolo ok quindi è un non si riesce a recuperare completamente questa dispersione dei parametri oltre a quelli ci sono anche altri parametri di piccolo segnale che abbiamo visto per esempio c'è questa FT ne abbiamo parlato proprio ieri che è dipendente dalla corrente e infatti viene data una corrente precisa vedete ecco la cosa è importante e viene dato solo un valore minimo non un valore massimo come si fa a fare la progettazione quando abbiamo questi valori così dispersi in generale dipende perché spesso uno dice vabbè sapete che faccio io progetto facendo conto che funzioni nel caso peggiore quello può essere un criterio ragionevole oppure se devo fare un'analisi dico vabbè faccio un'analisi ragionando che il transistore abbia dei parametri a un valore intermedio tra il minimo e il massimo supponendo che più o meno il grosso sia più o meno nel mezzo però per esempio già questo mi obbliga a fare una progettazione differente a fare un'ipotesi differente nel caso in cui faccio la progettazione o nel caso in cui faccio un'analisi se progetto devo progettare pensando che funzioni bene nel caso peggiore se faccio un'analisi è diverso in generale cosa si fa veramente si fa la progettazione nel caso peggiore poi si vede anche il caso migliore si guardano un po' tutti i casi tutti gli angoli di progettazione cioè un po' di circostanze diverse e si vede che effettivamente il circuito funzioni con tutte le possibili combinazioni dei parametri oppure un sottinsieme di tutte le possibili combinazioni dei parametri ok questo è un è una cosa che siamo costretti a fare allora altri parametri che sono importanti qua ecco non li guardiamo proprio tutti vediamo quelli che ora possiamo capire vedete dell'EC vi è fornito anche il grafico in funzione della scusate dell'HFE che è il beta F vi è fornito anche il grafico in funzione dell'EC vedete qua vi è andato per tre diverse temperature e per due diverse tensioni VCE in prima approssimazione non dipende granché da VCE infatti si vede che le due curve sono praticamente sono quasi allineate e c'è questo comportamento per basse correnti HFE aumenta con la temperatura scusate per basse correnti HFE aumenta con la corrente poi quando si raggiunge un certo valore di corrente particolarmente elevato l'HFE comincia a calare e questa zona qui in cui il guadagno di corrente cala aumentando la corrente è quello che si chiama regione di alta iniezione tipicamente una regione che si cerca di evitare quindi uno in generale ottiene il massimo delle prestazioni qui per correnti un po' prima del massimo ok perché poi perché si mette un po' prima del massimo perché poi varia la corrente quindi vuole stare sempre diciamo in alto altra cosa importante direi ecco altre cose che vengono indicate qua sono anche qua la FT vedete la FT in funzione di IC questa è la corrente di taglio in funzione della IC questa anche questa siccome la corrente di taglio è proporzionale HFE allo stesso andamento di qua aumenta all'aumentare della corrente fino a un certo punto e poi comincia a calare come dicevamo ieri per esempio quindi posso sapere questo transistore se lo polarizzo con una corrente di 10 mA ha un FT di quasi 300 MHz quindi vuol dire che fino a 300 MHz può essere utilizzato come amplificatore di qua invece per esempio giusto vedere l'altro lato c'è la capacità delle giunzioni in funzione della tensione inversa quindi questa per esempio CCB è la capacità queste sono capacità della zona di svuotamento quindi quando la giunzione è polarizzata inversamente c'è soltanto la capacità della zona di svuotamento vedete questo grafico mi dice in funzione della tensione che ho tra base e collettore quant'è la capacità vedete anche questo è importante perché in funzione di punto di riposo riesco a determinare la capacità questo me lo dà per l'aggiunzione base emettitore ma quando l'aggiunzione base emettitore è in inversa quindi non in zona attiva diretta in zona attiva diretta devo fare qualche altra cosa questa è quando l'aggiunzione base emettitore è in inversa che è una situazione diciamo poco utile perché è difficile che la metta in inversa ok continuando a esplorare un po' questo che cose c'è ci sono ma più o meno niente questi sono i dati meccanici per gli ingombri e determinare quanto spazio occupa il package cioè il contenitore quindi la cosa importante che dovreste notare è questo è questo aspetto che vedete in realtà i parametri di piccolo segnale vi vengono dati solo per alcuni valori della corrente ma voi potete avere la polarizzazione a qualunque corrente quindi com'è che fate a calcolare i valori di parametri di piccolo segnale per valori di corrente che qui non ci sono e qui bisogna fare una cosa che cerca di sfruttare un po' quello che conosciamo dei parametri piccolo segnale perché noi sappiamo funzionalmente come quei parametri dipendono dal punto di riposo quindi dobbiamo utilizzare un po' il modello un po' i dati che effettivamente abbiamo facciamo un esempio vediamo ce l'avevo qua un esempio adatto facciamo un esempio per vedere come si può fare allora io prendo qua vediamo i parametri di piccolo segnale di un bipolare quali sono io devo avere i parametri del circuito di giacoletto quindi in pratica rb rb primo e gm ro questi sono legati agli h a parametri h e dunque poi che cosa ho oltre questo ho cb primo e cb primo c questi parametri mi servono allora avevamo visto qualcosa noi avevamo visto questo se vi ricordate che rb primo e era hf per vt diviso ic questo lo avevamo già ricavato io riscrivo le cose che avevamo già ricavato quindi vedete rb primo e era inversamente proporzionale ai c poi avevamo ricavato che ro era va sui c quindi anche questo era inversamente proporzionale c questo era anche uno su ho e bene h hie era rb più rb primo e giusto questo lo sapevamo poi avevamo sapevamo anche che gm per rb primo e è in realtà hfe questo l'abbiamo visto me le scrivo tutte così poi ci possiamo ragionare più facilmente e l'altra cosa abbiamo ricavato proprio ieri l'ultima è che ft era gm diviso 2pi greco gm cb primo e più cb primo sci anche questo l'abbiamo ricavato allora che cosa possiamo fare beh il ragionamento è questo noi possiamo tenere presente questa cosa guardate rb primo e e ro sono inversamente proporzionali alla corrente di collettore quindi se troviamo rb primo e e ro a una corrente di collettore possiamo ricavare il valore a un'altra corrente di collettore va bene perché tanto sono praticamente inversamente proporzionali d'accordo quindi per esempio se io trovo che a un milliampere per i c uguale a un milliampere rb primo e sarà due e due chilom e lo leggo sul datasheet quando se i c vale due milliampere io posso dire va bene siccome inversamente proporzionale rb primo e sarà un chilom va bene quindi questa è un'informazione che posso cercare di usare ok quindi allora ripeto noi dobbiamo fare un set di ipotesi perché non abbiamo tutti i dati per poter estrarre questi parametri allora il set di ipotesi che possiamo fare è questo alcuni parametri non dipendono dal punto di riposo e i parametri che dipendono dal punto di riposo sono che non dipendono dal punto di riposo quali sono rb hfe no però non dipendono è una parola esagerata no aspettate diciamo dipendono poco dal punto di riposo così più facile da fare ragionamento allora alcuni parametri dipendono poco dal punto di riposo cioè non cambiano moltissimo ok scrivo così poco questi sono rb perché rb dipende poco dal punto di riposo perché noi abbiamo detto che il significato fisico di rb è quella resistenza del percorso che c'è tra la base intrinseca e il contatto di base quello dovrebbe essere una proprietà del materiale che c'è nel mezzo della geometria che c'è non tanto del punto di riposo non è proprio vero però quello che è vero è che alla fine rb dipende poco dal punto di riposo questa è un'ipotesi ragionevole l'altro parametro che dipende poco dal punto di riposo è hfe piccolo abbiamo visto che voi pensate che hfe piccolo è all'incirca beta f l'abbiamo visto già insieme beta f abbiamo visto che dipende dal punto di riposo all'aumentare la corrente sale e poi a un certo punto scende però la variazione non è tantissima quindi rientra tre parametri che dipende un poco va bene un altro parametro che dipende poco dal punto di riposo è va questa tensione qua che all'incirca diciamo sempre che è costante un altro parametro che dipende poco dal punto di riposo è ma basta così direi e altri parametri dipendono molto dal punto di riposo e cos'è che dipende molto dal punto di riposo per esempio rb'e che è inversamente proporzionale alla corrente quelli che dipendono molto bisogna che sappia il modello per esempio rb'e dipende molto perché è inversamente proporzionale alla corrente hfe pvt su ic un altro parametro che dipende molto dal punto di riposo è gm che è ic su vt quindi proporzionale alla corrente un altro che dipende molto ro che è va su ic e poi altri due parametri che dipendono molto dal punto di riposo sono cb'e e cb'c tra quelli che dipendono abbastanza poco c'è anche l'ft non cambia tantissimo cambia un po' ma non una cosa enorme allora perché facciamo questa distinzione perché che ragionamento facciamo facciamo questo ragionamento se siamo in grado di avere dei grafici accurati di quei parametri in funzione del punto di riposo e la quantità che incide di più è la corrente di collettore allora li estraiamo con precisione se non possiamo non abbiamo valori esatti che cosa facciamo per i parametri che dipende un poco ci accontentiamo di prendere il valore nel punto di riposo più vicino per dire rb se rb lo riesco a trovare a un mA e ho un punto di riposo che è c uguale a 2 mA prendo lo stesso rb tanto dico da 1 a 2 mA non sarà cambiato molto stesso escorso vale per gli altri parametri quindi se ho la dipendenza precisa uso la dipendenza precisa se non ho la dipendenza precisa prendo un valore abbastanza vicino e mi accontento gli altri invece per cui c'è una dipendenza proporzionale inversamente proporzionale cerco di valutarli in modo più preciso cioè cerco di valutare per esempio rb'e a una corrente con precisione e poi per ottenerlo alla corrente che mi interessa adopero la proporzione considerando che il parametro è inversamente proporzionale alla corrente va bene facciamo un esempio così si capisce immaginiamo questa situazione a punto di riposo di un transistore 2N 22 22 va bene immaginiamo che sia questo IC uguale 1mA VCE uguale 5V immaginiamo che questo sia il punto di riposo va bene allora vado sul datasheet devo trovare tutti i parametri piccolo segnale va bene vado sul datasheet e che cosa trovo trovo che per esempio i parametri H mi vengono dati a 1mA e a una VCE diversa va bene la prima cosa che dico è non fa niente perché la VCE conta poco sul parametri piccolo segnale sul parametri H non conta quasi niente vi ricordate anche quando abbiamo estratto l'espressione analitica la VCE non compare mai perché le caratteristiche di uscita sono quasi indipendenti dalla VCE quindi lì conta poco allora posso prendere il dato che c'è sul datasheet 1mA e VCE uguale a 10V mi va bene lo stesso perché la quantità che influisce di più su parametri piccolo segnale è la corrente allora vado a leggere qua qui mi dice guarda HIE a 1mA varia tra 2 e 8K allora a questo punto devo scegliere un valore plausibile posso dire va bene prendiamo come valore la media tra il minimo e il massimo quindi HIE a 1mA è uguale a 2 più 8 diviso 2 uguale 5K questo valore me lo tengo poi stavolta sono fortunato HFE a 1mA quant'è? vado sul datasheet HFE vedete da 50 a 300 mi viene vedete questo e questo quindi facciamo la media come stiamo ragionando ora quindi tra 50 e 300 la media è 175 poi posso prendere HUE che è 1mA a 1mA di nuovo vado qua e dico vedete HUE varia tra 5 e 35 qui c'è scritto questo qui è un modo di scrivere buffo in realtà perché vedete c'è scritto micro e qui c'è MHO MHO è un modo proprio insulso sono ohm alla meno 1 invece di scrivere ohm alla meno 1 hanno scritto MHO non ho invertito le lettere questi sono micro ohm alla meno 1 effettivamente HO è l'inverso di una resistenza quindi sono 10 alla meno 6 ohm alla meno 1 tra 5 e 35 10 alla meno 6 ohm alla meno 1 quindi 5 più 35 diviso 2 fa 20 per 10 alla meno 6 ohm alla meno 1 vedete quindi ho anche HOE anche HOE è praticamente dipendente soltanto dalla corrente quindi vedete io questi tre parametri li ho trovati tutti perché nel primo esempio e quello più facile avevo messo un punto di riposo che coincide con un punto di riposo in cui c'era il dato va bene allora detto questo io posso ricavare gli altri parametri perché RB'E l'ho scritto prima quant'è è HFE per VT diviso IC questi dati ce li ho tutti a miliampere quindi quindi RB' viene HFE che è 175 per VT immaginando di essere a temperatura ambiente VT vale 26 millivolt diviso IC che è un miliampere quindi 10 alla meno 3 in questo l'ho ricavato faccio il prodotto 175 per 26 fa 175 per 26 4550 ohm anche questo l'ho trovato poi non solo io so che HI è uguale a RB'E più RB'B' va bene e allora HI vale 5 Kilo RB'E vale 4550 questo vuol dire che RB'B' è la differenza RB' l'ho chiamato non BB' RB' che è la differenza tra i due varrà 450 ohm ok quindi questi sono i parametri RO è l'inverso di HOE uno su HOE e quindi è 50 Kilo l'inverso di quello sopra quindi anche questo l'ho trovato cosa mi manca forse il GM se voglio fare il circuito di giacoletto il GM è IC su VT quindi non ho bisogno di nient'altro IC è 1 mA VT è 26 mV quindi il termine 10 alla meno 3 lo posso trascurare quindi qui devo fare 1 diviso 26 fa 38.4 poi 10 a meno 3 38.4 poi 10 a meno 3 e qui l'unità di misura è ohm alla meno 1 vedete quindi i dati qui ce li ho tutti mi manca il termine di eh il termine legato alle capacità e dunque cosa devo fare mi serve VT perché vedete io che cosa posso fare faccio questa cosa questo è magari importante da notare io ho il GM M ce l'ho già VT Ft è questo se trovo Ft ricavo la somma delle due capacità la capacità della giunzione in inversa ce l'ho dal grafico e da lì posso ricavare l'altra d'accordo facciamolo un attimo allora Ft da dove lo prendo vedete vado qua la figura ce l'avevo già a 1 mA eccola qua Ft in funzione della corrente a 1 mA vale 90 vedete è questo punto qui guarda non guarda qua sotto 100 quindi 90 lo prendo dal grafico quindi questo è 90 aspettate questa è l'Ft a 1 mA ci scrivo questo chiocciolo a 1 mA per ricordarmi che il valore lo sto prendendo a 1 mA ed è una quantità che dipende dalla corrente quindi questo è 90 MHz se ce l'ho il grafico mi conviene prendere il valore esatto se non ce l'avessi il grafico che cosa farei avrei magari sulla tabella quanto vale a una certa corrente e mi prenderò lo stesso perché vedete non è che cambia tantissimo con la corrente un po' cambia però d'altra parte se non ce l'ho tutto il grafico non posso fare tanto diversamente CB'C ce l'ho perché CB'C non dipende dalla corrente è questa qui no? dipende dalla tensione inversa se VCE vale 5 volt VCB vale 4.3 volt perché VBE vale 0.7 no? la tensione V gamma quindi io posso mettere 4.3 volt su questo punto qui estrarre VCB ed è un pochino meno direi di 5 picofarad d'accordo? facciamo quanto facciamo? facciamo 5 picofarad tanto precisissimi non si riesce a essere quindi CB'C calcolato per VCB uguale a 4.3 volt dal grafico è 5 picofarad allora qui abbiamo finito perché se metto FT qua dentro io posso ricavare CB'E più CB'C da qui mi viene CB'E più CB'C è uguale a GM diviso 2 pi greco FT va bene? allora GM prendiamo la calcolatrice nuovo GM l'ho detto prima ed era 0.0384 diviso 6.28 ok diviso FT che era 90 MHz 90 e 6 uguale 6 e 79 per 10 a meno 11 facciamo sarebbe 67.9 per 10 a meno 12 quindi 67.9 picofarad facciamo 68 ok tanto come vedete non è che è inutile fare troppo i precisi perché un po' di numeri li prendiamo a occhio un po' di numeri li calcoliamo è inutile che è inutile far finta di avere 4 cifre decimali ok 68 picofarad a questo punto se la somma è 68 e CB'C vale 5 vuol dire che CB'E vale 63 picofarad va bene? e abbiamo tutti ora così abbiamo calcolato tutti i parametri di piccolo segnale vedete abbiamo del circuito di giacoletto abbiamo RB'E RO il GM RB una capacità l'altra capacità quindi usando il datasheet noi per quel punto di riposo siamo riusciti ad ottenere tutti i parametri di piccolo segnale sono approssimati sì sono approssimati per tanti motivi perché abbiamo preso i valori medi e non c'è nessuno che ci dica che i valori medi sono quelli giusti è solo una cosa plausibile ma poi il singolo transistore ha una certa dispersione abbiamo preso il valore medio per prendere un valore plausibile poi abbiamo trascurato la dipendenza del VCE dei parametri che un pochino c'è però l'abbiamo trascurata completamente poi abbiamo trascurato abbiamo usato quelle espressioni approssimate dei vari parametri perché di nuovo non avevamo niente di meglio d'accordo? ripeto la procedura che abbiamo seguito dipende dal datasheet che abbiamo nel senso che in questo datasheet abbiamo usato quello che avevamo parametri che ci venivano andati col grafico li abbiamo presi dal grafico quelli che non ci venivano andati dal grafico li abbiamo presi in modo approssimato però siamo costretti a fare così questa è una situazione abbastanza favorevole perché la corrente era diciamo per caso proprio una di quelle correnti indicate nel datasheet facciamo un altro esempio in cui la corrente invece non è quella tipo 2 mA il dato era 1 mA e 10 mA prendiamo 2 mA se il punto di riposo è 2 mA che succede che succede allora a 2 mA non abbiamo quasi niente perché gli unici parametri che ci vengono dati in funzione della corrente vedete HF grande non è HF piccolo è un'altra cosa l'unico parametro che vi è dato in funzione della corrente è FT è l'unico finito qui quindi l'unica cosa che possiamo dire vedete a 2 mA FT vale questa riga è 150 diciamo che saranno 140 approssimativamente quindi l'unica cosa che sappiamo l'unico dato che abbiamo a 2 mA è FT che è 140 MHz gli altri parametri non ce li abbiamo allora che cosa facciamo i parametri che dipendono un poco dalla corrente li prendiamo alla corrente più vicina per cui ce li abbiamo quindi per esempio abbiamo visto un attimo fa che per un mA c'erano si potevano trovare e usiamo quelli buoni a un mA d'accordo quindi la torniamo un attimo indietro quali sono i parametri che dipendono un poco RB abbiamo detto dipende poco dalla corrente HFE dipende poco dalla corrente quindi usiamo quella a un mA e poi torniamo un attimo indietro l'altro che dipende poco dalla corrente era VA e anche VA lo prendiamo a un mA va bene quindi Ft c'è la quindi RB VA e HFE li prendiamo a un mA come si fa a prenderli a un mA perché HFE è dato a un mA guardo sul datasheet e lo trovo perché se torno indietro HFE c'è un mA mi hanno detto prima tra 50 e 300 prendo il valore medio va bene quindi HFE ce l'ho allora HFE a 2 mA dico che è uguale HFE a un mA è uguale a 175 va bene RB io non ce l'ho va bene però RB faccio questo ragionamento RB a 2 mA è circa uguale a RB a un mA ok che è uguale per definizione all'HIE a un mA meno RB primo e a un mA va bene perché io non lo trovo sul datasheet direttamente RB a un mA RB l'avevo ottenuto per differenza tra questo e questo allora devo andare a vedere a un mA quant'è HIE e mi era venuto 5 kg RB primo e quant'era un mA e mi era venuto 4550 ohm e quindi RB avevo trovato che era 450 ohm ma l'avevo fatto prima conto ora lo faccio veloce a questo punto dico che quel numero mi va bene anche a 2 mA e l'ho preso va bene d'accordo VA invece di nuovo VA io non l'avevo estratto io che cosa sapevo sapevo che VA a 2 mA allora dico che VA è circa uguale a VA a 1 mA VA che cosa è VA è IC a 1 mA cioè 1 mA ovviamente IC è proprio quello è 1 mA diviso HOE a 1 mA quindi devo andare a vedere che cosa ho le quantità che ho a 1 mA e estrarlo a 1 mA va bene quindi qui devo fare 10 alla meno 3 diviso HOE a 1 mA che è se prendi un datasheet è tra 5 e 35 prendiamo 20 di media micro ohm alla meno 1 quindi 20 per 10 alla meno 6 ohm alla meno 1 faccio il rapporto mi viene 1000 su 20 cioè 50 volt quindi questi parametri qui li ho approssimati notevolmente ripeto prendendo il valore nel punto più vicino a cui posso trovarlo perché nel punto più vicino perché dico che dipende poco ma non sarà niente quindi bene se lo prendo nel punto più vicino commetto l'errore più piccolo d'accordo una volta che ce l'ho a questo punto posso calcolare i valori posso calcolare i valori che dipendono invece in modo più forte dalla corrente per esempio io so che RB'E è uguale a anzi prima trovo GM no GM è IC su VT e quindi a 2mA sarà 2 per 10 alla meno 3 diviso VT quindi sarà il doppio di prima prima era 38.4 adesso mi viene 76.8 per 10 alla meno 3 o alla meno 1 poi RB'E lo so quant'è RB'E è HFE ecco di nuovo RB'E a 2mA che cos'è è HFE a 2mA per VT diviso 2mA diviso IC che è 2mA quindi mi viene rispetto al caso di prima viene la metà viene la metà di 1mA perché è versamente proporzionale alla corrente quindi viene senza fare il contro posso scrivere 2275 ohm quindi ho adesso HOE mi manca oppure RO posso scrivere RO a 2mA che cos'è RO è VA a 2mA diviso la corrente diviso la corrente che è appunto 2mA quindi è 50 diviso 2 per 10 a meno 3 e fa 25 K chiaramente rispetto all'esercizio che ho fatto un attimo fa viene la metà perché RO è inversamente proporzionale alla corrente collettore quindi se a 1mA viene a 50 K ma a 2mA viene a 25 cosa mi manca le capacità allora la CCB dipende soltanto dalla tensione che è la stessa di prima quindi verrà lo stesso di prima 5 pico farad e invece CB'E che cosa è uguale? dovrà essere uguale a Gm diviso 2π Ft meno CB'C quindi qui ci devo mettere il Gm nuovo l'FT nuovo a 2mA e il valore CB'C quindi questo facciamolo un attimo con la calcolatrice quindi qui devo fare azzeriamo tutto devo fare Gm che è 0,0,7,8,6 no 7,6,8 7,6,8 7,6,8 aspettate va bene diviso 6 e 28 diviso 140 140 MHz fa 87 e 3 pico farad meno 5 pico farad fa 82 e 3 pico farad vedete la capacità viene più di prima perché il Gm è aumentato parecchio è raddoppiato ma Ft non è raddoppiato quindi il rapporto è più alto a questo punto ho calcolato tutto vedete qui ricapitolando sottolineo le cose che effettivamente mi servivano quindi mi serve Hfe mi serve RB mi serve GM per il circuito già coletto mi serve RO RB l'ho presa 1mA ah l'ho scritto sì 450 Ohm RB'E è 2275 quindi ce l'ho CB'C ce l'ho e CB'E ce l'ho quindi ho tutto posso come dire affrontare il calcolo del circuito e piccolo segnale va bene proviamo a fare un esercizio almeno per quanto riguarda il calcolo del punto di riposo completo e non ci richiede tantissimo tra l'altro è proprio un esercizio d'esame così cominciamo a verne uno è un pezzettino un esercizio d'esame del 30 gennaio 2003 non a caso sapete che ci sono tutti esercizi d'esame li trovate ecco quelli sono comodi per ci sono tutti con tutte le correzioni sono comodi per fare un po' di prove dal maggio 2001 ora non tutti un po' sono cambiati quindi non tutti gli esercizi un po' il programma è cambiato quindi non tutti gli esercizi possono essere fatti però buona parte sì ecco quindi questo è un amplificatore con due transistori quindi due stadi faccio il disegno completo anche se adesso noi ci concentriamo sul punto di riposo ma è giusto per capire un po' l'esercizio completo come è fatto allora vi segno in rosso i valori non scrivo l'unità di misura la sottintendo chiaramente se scrivo un numero accanto alla resistenza quelli sono nom sono 69 stavo cercando di capire cosa 10k 1.2k 51 1k quindi 47n vuol dire 47 per 10 al meno 9 1k vuol dire 1 per 10 alla 3 giusto un'annotazione compatta che in realtà si usa per i circuiti quindi così pian piano ve la introduco 47n vuol dire 47 nanofarad perché quella è la capacità e direi manca quella capacità 3 microfarad 3 micro 3 microfarad ok queste due Q1 e Q2 sono in due transistori e sono transistori 2N 22 22 proprio il tipo che abbiamo visto ora poi ci dice guarda considera HO è nullo così semplifichi un po' il tutto e considera Q2 resistivo ok questo era l'esercizio quando si dice di considerare un transistore resistivo vuol dire che si chiede di trascurare le capacità interne che stanno nel transistore allora io volevo provare a fare il calcolo del punto di riposo e poi estrarre parametri di piccolo segnale vediamo un pochino come viene facciamo piano piano allora un po' di cose mentalmente senza disegnare ah WD non ho scritto quant'è WDD era 15 volt allora qui com'è che bisogna ragionare c'è da fare un po' di ipotesi per fare un conto a mano e insomma pian piano vi guido le faccio in modo esplicito le ipotesi e poi le verifichiamo esplicitamente è importante diciamo ma questo in generale non soltanto in elettronica un po' in tutte le materie che fate tenere sempre presente quando andate avanti quali sono le assunzioni implicite che state facendo quali sono le ipotesi se ci sono le ipotesi implicite esplicitate in modo da aver chiaro qual è la validità delle considerazioni che fate questo è un criterio insomma generale non voglio dire non è neanche limitato diciamo alle materie di studio sono sempre importanti avere presente le assunzioni implicite allora innanzitutto per il punto di poso sappiamo ci sono quelle capacità di blocco di accoppiamento e di bypass che isolano il circuito di polarizzazione dal resto quindi possiamo guardare adesso soltanto il circuito di polarizzazione cioè i due transistori e quelle 6 resistenze 5 resistenze che gli stanno intorno quindi concentriamoci solo su quello allora com'è che possiamo ragionare allora per semplificare un po' i conti ci conviene fare un po' di ipotesi e facciamo l'ipotesi che abbiamo sempre fatto finora che si basano molto sul fatto di pensare che chi ha progettato questo circuito volesse fare un amplificatore e quindi volesse polarizzare i transistori in zona attiva diretta quindi noi partiremo dall'ipotesi che i transistori sono polarizzati in zona attiva diretta perché questo è un amplificatore e poi andremo a verificare se effettivamente poi l'ipotesi è ragionevole un'altra cosa che conviene assumere è che ci sia una polarizzazione che rende il circuito abbastanza stabile rispetto a variazioni dei parametri perché è una cosa che si fa di solito per esempio un aspetto necessario per garantire quella condizione è il fatto di avere un partitore pesante ricordate vuol dire avere questa tensione qua la tensione sul nodo di base che non dipenda granché dalla corrente di base per avere questa tensione qui che non dipende dalla che cosa vuol dire vuol dire che se fate l'equivalente di Thevenin la caduta sulla resistenza serie è trascurabile era l'ipotesi che facevamo se vogliamo che questa tensione non dipenda granché dalla corrente di base vuol dire che in pratica questa corrente di base deve essere trascurabile rispetto a quella che passa nel partitore per questo si chiama ipotesi di partitore pesante allora partiamo ipotesi partitore pesante che cosa vuol dire ipotesi di partitore pesante che la corrente che passa nel partitore se stacchiamo il transistore è molto più grande della corrente che va a fine il transistore quindi V D diviso R1 più R2 che è la corrente nel partitore a vuoto è molto maggiore della corrente IB1 cioè la corrente è la base del transistore 1 ok in modo che la cosa sia trascurabile questa è l'ipotesi che vuol dire VDD è 15 diviso 79 kg quindi 79 per 10 alla 3 15 diviso 79 fa un po' meno di 0,2 ok facciamo 0,19 ok 0,19 milliampere è molto maggiore di IB1 poi ora noi IB1 non lo sappiamo ancora quanto è ma poi il posteriore dobbiamo verificare che questa è verificata d'accordo poi andiamo avanti noi con questa ipotesi continuiamo ad andare avanti possiamo calcolare la tensione sulla base del transistore R1 quindi VB1 diventa uguale a VDD diviso R1 più R2 per R2 quindi questi 0,19 per 10 kg fa 1,9 volt questo è VB1 poi abbiamo l'altra ipotesi che Q1 sia in zona attiva diretta di nuovo questi volti si sbazza sul fatto che l'amplificatore è stato realizzato bene a questo punto in zona attiva diretta la caduta di tensione tra base e emettitore è circa 0,7 volt quindi questo vuol dire che VE1 è uguale a VB1 meno V BE ON che è 0,7 quindi vale 1,2 volt questo è VE1 ora a questo punto io posso calcolare la corrente in R3 I3 la chiamo corrente in R3 è VE1 diviso R3 quindi è 1,2 volt diviso 1,2 Kilo per 10 alla terza che fa 1 mA quindi IE3 è 1 mA poi io qui che cosa faccio voglio dire che questa corrente di base è trascurabile c'è un'altra specie di partitore pesante qua per cui la corrente che passa in I3 è praticamente la corrente di emettitore che è praticamente la corrente di collettore va bene quindi qui c'è un'altra ipotesi anzi due ipotesi che faccio ops no voglio cambiare colore beh facciamo così l'ipotesi che faccio è che I B2 che è la corrente è la base del transistore 2 sia molto più piccola della corrente di emettitore del transistore 1 VB on no abbiamo detto nel modello grande segnale del transistore bipolare quando il transistore è in zona attiva diretta la giunzione base emettitore è una caduta che è 0,7 volte è una giunzione come un diodo è una perché è una caratteristica esponenziale che va subito su quindi abbiamo detto mettiamoci un valore tipico allora quest'altra ipotesi IB2 molto minore di Ie1 cosa mi dice mi dice praticamente che Ie1 è uguale a Ie3 che è 1mA poi a questo punto faccio un'altra ipotesi che la IC1 sia all'incirca uguale alla Ie1 bene che vuol dire che la che vuol dire che l'HF è molto grande il beta F è molto grande no e per cui anche la IC1 è uguale a 1mA vedete io tutte queste ipotesi le marco perché poi le voglio andare a verificare tutte specialmente all'inizio è bene che non diamo niente per scontato allora questa è la IC1 una volta che ho la IC1 posso calcolare no ancora è presto questa è la IC1 la tengo qui ora posso calcolare VE2 questa è E2 perché e dunque vado avanti VE2 è uguale a VB2 meno VBEON e questa è una cosa che è vera nell'ipotesi questa l'aggiungo che anche il transistore Q2 sia in zona attiva diretta va bene quindi quindi VB2 era questo è uguale a VE1 perché è lo stesso nodo quindi questo era 1.2 meno 0.7 uguale a 0.5 volt quindi questo è l'emettitore torno un attimo indietro questa è 0.5 a questo punto posso calcolare questa corrente IE chiamiamola IRE la corrente in RE è 0.5 diviso 50 Ohm quindi avanti IRE è uguale a no beh IRE è anche la IE2 perché è la stessa corrente ed è uguale a VE2 diviso RE cioè è 0.5 diviso 10 per 0.5 volt diviso 50 0.5 diviso 50 fa 0.01 cioè 10 milliampere e anche qui io suppongo che Ic2 faccio un'altra ipotesi che Ic2 sia praticamente uguale a IE2 e quindi anche Ic2 sia 10 milliampere va bene? Ic2 è uguale a beta F diviso beta F più 1 per IE no quindi se IE se beta F è molto maggiore di 1 allora le due correnti sono uguali allora adesso torno un attimo indietro ci sono perché adesso ho questa corrente Ic2 posso calcolare questa tensione qua la tensione sul collettore di C1 e C2 che è uguale a Vdd meno Rc per la corrente che passa in Rc ma in Rc passa la somma di C1 e C2 quindi andiamo avanti io qui ho un conto facile da fare ho Vc1 che è uguale a Vc2 è uguale a Vdd meno Rc per la somma di Ic1 e Ic2 e qui mi viene 15 meno Rc era 500 facciamo in Kilo 05 perché così ho Kilo per un mA che fa un Volt e questi sono 11 quindi devo fare 15 meno 5.5 uguale 9.5 Volt quindi ho Vc1 uguale a Vc1 meno Ve1 ed è 9.5 meno Ve1 quant'era? 1.2 Volt fa 8.3 Volt e Vc2 uguale a Vc2 meno Ve2 ed è di nuovo 9.5 meno 05 che è uguale a 9 Volt ok ho risolto il praticamente utilizzando il utilizzando il modello di grande segnale in zona attiva diretta di Q1 e di Q2 sono riuscito a ricavare tutte le correnti e le tensioni nei transistori utilizzato il modello di grande segnale ora non l'ho scritto esplicitamente tutte le volte ma l'ho utilizzato dov'è che l'ho utilizzato l'ho utilizzato tutte le volte che ho detto Vbe on vale 0,7 perché nel modello grande segnale c'è una batteria di valore 0,7 volt la base emettitore e poi la corrente di collettore è uguale a beta F per la corrente di base questi sono i punti in cui l'ho utilizzato a questo punto c'è da verificare tutte le ipotesi che abbiamo fatto ok allora verifichiamole un attimo innanzitutto il punto di riposo vedete le correnti sono per i C1 1 mA VCE1 è 8.3 volt e quindi effettivamente è verificato il transistore è in zona attiva diretta ricordate perché se è in zona attiva diretta deve essere la corrente positiva ora se andate a vedere le condizioni per le diverse regioni di funzionamento lo verificate questo abbiamo bisogno che sia in corrente positiva e VCE1 maggiore della VCE di saturazione se guardiamo il datasheet in questo caso la VCE di saturazione è indicata a 0.3 volt dove questa qua a 0.3 volt quindi abbiamo 8.3 che è maggiore quindi certamente siamo in zona attiva diretta quindi questa qua è verificata Q1 in zona attiva diretta stesso discorso vale per Q2 a 10 mA di corrente di collettore e 9 volt di tensione tra collettore e mettitore quindi anche Q2 è in zona attiva diretta quindi queste due sono verificate se vado nella pagina in cui ho fatto l'ipotesi della zona attiva diretta dunque dov'è che l'ho fatta per essere preciso l'ho fatta qua e quindi la posso spuntare e poi l'ho fatta l'ipotesi della zona attiva diretta l'ho fatta nella pagina successiva qui e anche questa la posso spuntare perché l'ho verificata ok a questo punto io posso andare a vedere quant'è beta F nel punto di riposo vado avanti beta F del transistore 1 che è uguale all'HF grande del transistore 1 queste due cose sono sinonimi e sono esattamente la stessa cosa sono due nomi diversi della stessa quantità questa posso andarla a vedere sul datasheet e cosa mi dice mi dice che ce l'ho qua questo qua HF grande vedete a 1mA a 25 a 1mA a 25 gradi quindi a temperatura ambiente è circa 150 vedete a 1V per VCE 1V è 150 VCE 10V che è più vicino al mio caso è un po' di più di 150 ma insomma è sempre molto maggiore di 1 va bene quindi e c'è circa 150 facciamo che è molto maggiore di 1 quindi l'ipotesi per cui ho detto che la corrente di collettore è circa uguale alla corrente di emettitore è verificata ripeto la corrente di collettore è uguale alla corrente di emettitore per beta F diviso beta F più 1 quando beta F è 150 quel rapporto fa 1 ok l'altro transistore ha una corrente di 10mA se vado qui a 10mA vedo che l'HF è a temperatura ambiente vedete tra 1V e 10V non cambia quasi niente l'IvCE vale 200 circa ok scrivo 200 tanto non è che possa essere troppo preciso graficamente quindi qui cosa scrivo scrivo che beta F2 che è HFE grande 2 è circa 200 e anche esse è molto maggiore di 1 quindi l'ipotesi di IC2 uguale a IB2 è anch'essa soddisfatta ma abbondantemente non c'è nessun limite quindi queste ipotesi sono soddisfatte che altre ipotesi mi era rimaste da verificare avevo fatto ecco vedete queste due ipotesi qui IB2 molto minore di IE1 ok questa la devo verificare va bene IB2 molto minore di IE1 allora questo è facile da verificare perché IB2 è uguale a IC2 diviso beta F2 va bene quindi IC2 era 10 mA diviso beta F2 che è 200 quanto fa questo rapporto 10 mA diviso 200 fa 50 mA perché 10 mA sono 10.000 mA 10.000 mA 10.000 diviso 200 fa 50 quindi sono 50 mA è molto minore deve essere molto minore di 1 mA che è IC1 ovviamente ovviamente sì lo è per noi ecco questo magari è bene precisarlo quando noi diciamo molto minore o molto maggiore ci accontentiamo di un fattore 10 per l'accuratezza con cui facciamo calcolo in fattore 10 ci basta qui c'è un fattore 20 tra 1 mA e 50 mA quindi questa cosa è vera e allora anche questa ipotesi che abbiamo fatto la possiamo smarcare perché l'abbiamo verificata e c'è rimasta l'ultima solo l'ultima c'è rimasta che è questa qua VDD fratta R1 più R2 molto maggiore di IB1 facciamolo questo conto la corrente era 0.19 mA deve essere molto maggiore di IB1 ma quant'è IB1 facciamolo il conto IB1 è IB1 è uguale a IC1 diviso beta F1 IC1 è 1 mA beta F1 è 150 quindi 1 mA diviso 150 fa 6.3 microA è molto maggiore di 0.19 mA ovviamente sì di 0.19 mA sono 150 microA 190 scusa microA 190 diviso 6 fa un fattore 25-30 quindi insomma per noi è abbondantemente soddisfatto e quindi anche l'altra ipotesi l'ultima che abbiamo fatto è effettivamente no persa era qua anche l'ultima è effettivamente questa qui è effettivamente soddisfatta va bene quindi questa parte va fatta perché non è automatico che siamo tutte soddisfatte vedete come vi dico sempre io non c'è scritto da nessuna pagina non c'è nessun motivo matematico per cui debbano essere soddisfatte queste sono soddisfatte semplicemente perché qualcuno ha progettato il circuito e quindi c'è un motivo per fare in modo che queste condizioni siano vere e quindi probabilmente è stato seguito ma insomma la verifica va fatta perché non possiamo essere sicuri fatto questo abbiamo il punto di riposo e possiamo direttamente calcolare i parametri di piccolo segnale in questo caso sono particolarmente facili perché insomma non è una coincidenza ma abbiamo scelto due punti di riposo che coincidono esattamente con quelli che sono con quelli per cui è fornito tutti i parametri di piccolo segnale sul datasheet quindi facciamo una cosa possiamo fare una verifica molto rapida allora a questo punto i parametri di piccolo segnale li possiamo calcolare per tutti e due quindi parametri per Q1 allora HE Q1 ha una corrente di un miliamper giusto quindi HE è 175 l'abbiamo visto prima ah no HE non c'è HF è 175 HE era 5 kg il valore medio HFE era 175 scrivo veloce perché l'abbiamo calcolato prima HE era 20 per 10 a meno 3 quindi RO era venuto 50 kg giusto questi tre FT era 90 MHz ecco CB primo E no CB primo C lo devo calcolare AGM lo so quant'è è 38.4 per 10 a meno 3 O a meno 1 ecco questo invece è diverso CB primo C lo devo calcolare perché stavolta VBC quant'è non mi ricordo la tensione tra collettore e emettitore è 8 e 8 e 3 quindi tra collettore e base ci sono 8 e 3 meno 0 7 7.6 volt quindi VBC è meno 7.6 volt quindi vado sul datasheet e vedo dov'è la CB primo C e questo a 7.6 volt sono qua e circa 4 picofarad va bene questa riga qui è del 4 quindi mi viene 4 picofarad allora a questo punto CB primo E sarà GM diviso 2 pi greco FT meno CB primo C sostituisco tutto va bene rispetto all'esercizio di prima i primi parametri erano uguali adesso CB primo C è un picofara di meno vuol dire che CB primo E verrà un picofara di più ok rispetto all'esercizio che abbiamo fatto prima perché perché era la stessa corrente rispetto a questo no questo termine qui era uguale a prima verrà 68 CB primo C avrebbe venuto 4 invece 5 quindi CB primo E verrà 64 è inutile annoiarvi col conto quando abbiamo già fatto quindi questi sono 64 picofarad e questo è Q1 per Q2 invece eh per Q2 non abbiamo estratto i dati prima dobbiamo andargli a prendere allora dove andiamo? andiamo qua a 10 mA HIE è compreso tra 0,25 1 e 25 K la media è 0,75 K quindi 750 Ohm quindi HIE uguale a 750 Ohm HFE è uguale a cosa? vado qua HFE va da 75 a 375 a 10 mA quindi la media quant'è? la media è 225 no devo fare la somma divisa 2 fa 225 quindi 225 vedete io ho detto dico HFE prima ha detto varia poco col punto di riposo non varia proprio niente perché a 1 mA vale 175 a 10 mA vale 225 però è una variazione tutta sommata abbastanza piccola e se non ce l'ho il dato mi accontento mi accontento del valore più vicino HOE invece lo devo andare a prendere qua di nuovo devo fare la media tra 25 e 200 devo fare quindi 25 più 200 diviso 2 per 10 alla meno 6 ohm alla meno 1 questo fa quindi 112 e 5 per 10 alla meno 6 ohm alla meno 1 quindi 112 e 5 ok RO che è l'inverso 112.5 1 su per per 1 per un milione fa 888 diciamo 8,8 chilo è inutile cercare di essere troppo preciso allora FT e stavolta FT è aumentata parecchio perché FT dipende molto dalla corrente a 10 chilo a 10 mA FT vale 300 MHz quasi ok un po' meno 300 facciamo va FT vale 300 MHz GM è IC su VT quindi vale 10 volte quello che valeva prima sarà 384 per 10 a meno 3 ohm alla meno 1 quindi uno può calcolare a questo punto CB primo C e CB primo C deve calcolarlo alla VBC di questo quant'è VBE era VCE era 9 VCB quindi viene 8.3 volt devo andare a calcolare per 8.3 volt insomma vedete tanto mi è sempre 4 picofarad quindi questi sono 4 picofarad e per finire CB è uguale a GM diviso 2py FT meno CB primo C dobbiamo trovare il valore esatto prendiamo la calcolatrice quindi abbiamo 0.384 diviso 6.28 diviso 306 uguale attenzione sono 204 facciamo e quindi fa 200 picofarad mi è parecchio più grande ma è normale quello perché quella capacità è soprattutto una capacità di diffusione quindi tanto quando la corrente è più grande quella capacità viene più grande quindi in realtà non è venuta neanche proporzionata la corrente vedete la corrente è aumentata da un fattore 10 e la capacità da Q1 a Q2 è aumentata soltanto da un fattore circa 3 va bene allora vedete adesso per esempio non completiamo la cosa tanto così riusciamo a fare un pochino di pausa qual è il ragionamento adesso apriamo il circuito di partenza abbiamo calcolato il punto di riposo abbiamo calcolato i parametri di piccolo segnale per esempio adesso possiamo calcolare siccome avete tutti gli strumenti per poterlo fare il valore dell'amplificazione a centro banda e i limiti di banda ormai tutti i parametri sono noti e faccio calcolare anche questi altri tre amplificazione a centro banda limite superiore di banda limite inferiore di banda e così si sa qual è la all'incirca qual è la funzione di trasferimento dell'amplificatore quindi avete gli strumenti per fare un'analisi completa a questo punto ce li avete tutti vedete all'inizio sarà un po' lento dovete ricollegare un po' tante cose che abbiamo visto però un po'